Il Spark preso a Ollo Store in Italia, veramente è arrivato, abbiamo pagato all'inizio del mese di luglio ed è arrivato quasi un mese dopo. Dovrebbe essere blu, una versione combo con dentro anche il joystick e le altre cose. La stacola è ben isolata dai colpi, con dentro polistirolo, dentro c'è dentro la fattura di Ollo Store, 799 euro, e la scatola dello Spark. Veniamo qua il nostro DJI Spark, finalmente abbiamo la fortuna di vederlo. Torniamo via la pellicola dalla scatola originale della DJI, la scatola Fly More Comber. Vediamo che cosa ci troviamo dentro. Qua c'è le picchettine di garanzia, togliamo anche lei. Qua c'è un'altra. E dentro abbiamo tre cose. Questa qua, che è una scatola che si presume cosa c'è dentro. Andiamo subito. Qua c'è dentro il nostro Spark. Eccolo qua. Spettacolo. Ma che bellino che è. È più bello, con silica gel. Spettacolo. È proprio bellino, piccolino. Vedete com'è? Bello tosso con la sua batteria. Qua c'è dentro eliche di scorta. Due paia di eliche di scorta. Esatto. E un'altra batteria da portarsi in giro. Quindi c'è la sua bella confezioncina di polistirolo da portarsi in giro. Allora, poi qua cosa abbiamo? Qua abbiamo... bello blu, eh? Già lo mi so chiedere. Beh, le piace anche a me. Poi ci abbiamo qua. Manuali in tutte le istruzioni, in tutte le lingue possibili, immaginabili, che io spero... Tranne l'italiano. Anche l'italiano. Sì, c'è anche il contenuto della confezione. C'è anche l'italiano. Perfetto. Ok. Altre cose, basta. Poi in altre cose c'è anche questo. Che non so cos'è. Questa è la sacchetta. Ah, questa è la sacchetta per metterlo dentro. Che, fin su, sia una bella tracolla. Adesso lo apriamo anche lei. Questa tracolla. Eccola qua. Vediamo cosa ci presenta questa tracolla. Qua c'è una cerniera. Dentro cosa abbiamo? Abbiamo un cavetto, tipo quello dei telefoni Samsung. Esatto. Poi abbiamo... Ah, il multicaricatore per tre batterie. Poi, cosa che abbiamo qua dentro? Abbiamo... Il nostro bel telecomando. Eccolo qua. Che qua in Italia sarà merdosamente illimitato. Per noi nostre cazzo di norme stupide. Che andrò subito a trovare il modo come levarli dai coglioni. Eccolo qua. Dove si mette il nostro bel telecomando. Poi cosa abbiamo qua dentro? Abbiamo... Il cavetto della corrente. Il caricabatterie. Che presumo che vada sia sullo spark che su qualcosa qua. Infatti sì. Si infila dentro qua. Qualcosa che c'è ancora. Abbiamo questi che sono dei paraeliche. Belli. Dei paraeliche così se dobbiamo fare qualche mossa. Qualcosa. Indoor. Non spacchiamo le nostre eliche. Ma almeno io le metterò sicuramente anche outdoor. Perché se faccio qualche cazzata almeno le eliche le salvo. E niente d'altro. Abbiamo scoperto tutto quello che c'è dentro. Ci sentiamo. Alla prossima. Con i voli. Ciao a tutti. Ben giocattolino. Ben giocattolino.